Coracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi col bicipite photoshoppato. No, questo non è un TG Poro ma sarà comunque un video ricchissimo. Nintendo ha infatti pubblicato i dati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale in corso e quello che ne è uscito fuori è una situazione che non definirei allarmante ma che di sicuro lascia con qualche dubbio su come Nintendo cercherà di gestire Switch da qui fino all'annuncio del suo successore. Quindi prendiamoci un attimo per analizzare i risultati più recenti di Nintendo Switch, scoprire quali sono i commenti di Nintendo a riguardo e capire poi cosa ci aspetta nel futuro immediato. Prima di tutto però vi ricordo che crisi o non crisi è iniziato un nuovo mese e quindi è partito anche il nuovo giveaway di Instant Gaming. Avete tutto il mese per partecipare e il fortunato vincitore potrà portarsi a casa un gioco a sua scelta dal catalogo di Instant Gaming. Partecipare è completamente gratuito, infatti basta avere un account sul sito. Mi raccomando non fatevi sfuggire questa occasione visto che ci siete, ricordatevi di dare un'occhiata alle offerte del momento su Instant Gaming. Trovate tutti i links in descrizione, io ho detto tutto, iniziaziamo! Sappiamo da un po' di tempo che ormai Nintendo Switch è nella seconda fase, quella discendente del suo ciclo vitale. Abbiamo infatti scavallato ufficialmente la metà e questa cosa mi fa ancora impressione dirla. E ovviamente quest'ultima fase è contraddistinta da un calo fisiologico delle vendite, sia per quanto riguarda l'hardware che i software. Per quanto fosse prevedibile insomma che i grafici puntassero tutti verso il basso, se confrontiamo i risultati del primo quarto di questo anno fiscale 2025, che va dal 1 aprile al 30 giugno 2024, con lo stesso periodo dell'anno precedente, la differenza è abissale. Abbiamo infatti un calo drastico delle vendite hardware, che con 2,10 milioni di unità totali segnano un calo del 46,3% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i software invece siamo sotto del 41,3%, passando da oltre 52 milioni a 30,64. Un abbassamento del genere è però giustificabile non solo con la naturale traiettoria che ci si aspetta da una piattaforma entrata nel suo ottavo anno di commercializzazione, ma soprattutto dal fatto che il primo quarto dell'anno fiscale 2024 è stato segnato da due importantissime uscite, quella di Tears of the Kingdom e il film di Super Mario. Questo è infatti il commento di Nintendo. Il film di Super Mario Bros ha energizzato il mercato delle nostre console, e la release di Tears of the Kingdom è stata accompagnata da un'edizione speciale della console basata su questo titolo. Non ci sono stati fattori speciali del genere nel primo quarto di quest'anno fiscale, e con Nintendo Switch, ora nel suo ottavo anno dal lancio, le unità vendute di hardware e software sono diminuite drasticamente di anno in anno. Effettivamente, se mettiamo a confronto questi ultimi mesi con altri trimestri, escluso ovviamente quello che copre le vacanze natalizie, è possibile osservare come, sebbene il calo sia sempre presente, questo sia molto meno marcato rispetto a quanto analizzato fino ad ora. Addirittura siamo stabili rispetto al trimestre che va da gennaio a marzo 2024. Nonostante l'assenza di un titolo di forte richiamo come Tears of the Kingdom che aveva venduto mi sembra oltre 10 milioni di copie in brevissimo tempo, ci sono due titoli first party che hanno superato il milione di unità vendute. Si tratta di Luigi's Mansion 2 HD con 1,19 milioni di unità e Paper Mario il portale millenario HD con 1,76 milioni. Ora questi sono numeri sicuramente incoraggianti sia per le rispettive fanbase che per Nintendo, che è riuscita a trarre il massimo profitto da due titoli che, ricordiamo, non sono nuovi al 100% ma sono delle riproposizioni. Paper Mario, in poco più di un mese dalla commercializzazione, ha quasi raggiunto le vendite totali del capitolo originale su Game Cube, mentre Luigi's Mansion 2 ha dimostrato che il tempismo per una release del genere è fondamentale. Prendete ad esempio il primo capitolo della saga riproposto su 3DS, altra console estremamente popolare. Questo purtroppo non ottenne i risultati sperati, vendendo pochissimo proprio perché pubblicato in netto ritardo rispetto all'attenzione del pubblico nei confronti della piattaforma. Nel 2018 stavamo già tutti su Switch. Ora però vi faccio una domanda. Secondo voi Nintendo come interpreterà questi dati? La grande N sarà più interessata al potenziale di queste due serie o agli ottimi risultati che si possono ottenere con delle produzioni a basso budget come remaster, porting e remake? Ah, per la cronaca, anche Princess Peach Showtime è indicato tra i titoli che hanno ottenuto un buon riscontro commerciale, avendo anche questo gioco superato il milione di copie, vendendone più della metà in questo trimestre. Per Nintendo è un importante segnale perché, cito testualmente, questo gioco può essere apprezzato da utenti che di solito non giocano titoli d'azione e ci aspettiamo che le vendite continuino a salire sul lungo termine. Una grandissima F in chat per Endless Ocean, sparito completamente dai radar, anzi dai sonar. Se non mi fossi messo a ricercare i titoli usciti in questo periodo non mi sarei mai ricordato della sua pubblicazione inizio maggio. Lo ripeto, per me si tratta del titolo sbagliato nel momento sbagliato. Venduto pure nel modo sbagliato. Visto il rallentamento nelle vendite complessive non ci sono stravolgimenti nella top 10 dei titoli più venduti di sempre su Switch, però alcune posizioni sono in bilico, come ad esempio Tears of the Kingdom, sempre più vicino a prendere l'ottavo posto di Super Mario Party. Però è anche vero che Breath of the Wild ha venduto più del suo seguito in quest'ultimo periodo. Un dato molto interessante, non trovate? Comunque siamo arrivati a quanto? 143 milioni di console vendute, PlayStation 2 è ancora lontanissima, nel mentre le vendite sono in calo e anche i profitti. E di Switch 2 non c'è stata neanche l'ombra di una menzione. Ma allora cosa possiamo aspettarci? Da Nintendo nei prossimi mesi. Allora innanzitutto sono state riconfermate le date di uscita dei titoli imminenti e la seconda metà del 2024 sarà molto più densa rispetto ai primi sei mesi. Tutti gli occhi sono puntati sul nuovo Zelda, sul nuovo Mario e Luigi, sul ritorno di Mario Party. Insomma c'è un grande margine di miglioramento e di crescita per quanto riguarda i dati di vendita, però rimane comunque inaspettata la decisione di Nintendo di non abbassare le previsioni di quante console verranno vendute entro la fine di marzo 2025. I 13,5 milioni rimangono una stima a mio avviso esagerata, soprattutto se prendiamo in considerazione quanto visto finora. Veramente la Lite di Zelda darà un boost così importante alle vendite della console? Non credo. Cosa rende così ottimista Nintendo allora? Di incoraggiante c'è di sicuro il numero complessivo di utenti annuali attivi che ha raggiunto ora quota 128 milioni. Con questa metrica si indicano tutti quegli utenti con un Nintendo Account che nel corso degli ultimi 12 mesi hanno utilizzato almeno una volta un software Nintendo Switch. Insomma l'utenza è ancora molto attiva e dimostra interesse nei confronti della console e con un numero così ampio abbiamo l'ennesima conferma dell'importanza che avrà a mantenere viva questa base durante il passaggio generazionale. Sì insomma mi riferisco alla persistenza dell'eShop anche sulla prossima console e alla sempre più probabile retrocompatibilità tra i due sistemi. Oltre a questo continua poi l'espansione dell'AP ben oltre il mondo dei videogiochi tra il nuovo parco a tema di Donkey Kong che arriverà entro la fine del 2024 e il seguito del film di Super Mario previsto per il 2026. Delle iniziative che come abbiamo visto allargano enormemente il bacino d'utenza e l'interesse nei confronti del mondo console. Per tirare le somme direi che nonostante i dati parlino chiaro Nintendo sembra ancora ristia nel voler abbandonare la nave. Non sembra esserci alcuna intenzione di anticipare il passaggio generazionale. Nonostante sia stata già ufficializzata l'esistenza della Next Gen e sia stato promesso un reveal di questa entro la fine dell'anno fiscale. Tra il dire e il fare però ce ne passa e non mi sorprenderebbe se la Switch 2 o comunque la Next Gen venisse annunciata prima di dicembre di quest'anno. In fondo per come la vedo io continuare a rimanere su Switch ancora a lungo potrebbe diventare una scelta controproducente anche un po' rischiosa. Però sono curioso di sapere la vostra. Vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate di questi risultati finanziari magari se li interpretate come una crisi di Nintendo e Nintendo Switch oppure come il normale svolgimento del ciclo vitale di una console ormai prossima al pensionamento. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando fate bravi riposatevi dormendo sonni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro Switch Michele Crisi ciao. Ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa a tutti i nostri spettatori e anche a tutti i nostri spettatori i nostri spettatori